Buona occasione per Criniti che può dare l'uno contro l'uno, Criniti prova a saltare l'avversario, parte il cross e la testa è gol! Dorato, azione da manuale del Rocella e finalmente in gol anche Dorato. Una stupenda azione impostata da Franco. Coris, Dorato per il pallone di ritorno, appena lungo per Coris. Ancora la testa di Dorato, prende palla però il Rocella, ancora Laribi che punta verso l'avversario di gore, porta la botta di Laribi, gol! Un euro-goal di Laribi, un gol straordinario! È il frutto di una straordinaria azione del Rocella che ha trovato tutto solo Laribi che da 30 metri ha mandato un pallone imprendibile verso la porta di Femme. Bella, bella azione, doppietta meritata dei patroni di casa. Lancia in avanti, non c'è fuori gioco stavolta, Coris che punta verso l'avversario di gore. Coris ha guardato verso il centro, pure ormai è troppo tardi per puntare alla porta due roccellesi in aria. Ma Coris, il pallone rimane tra i piedi della squadra ciliana, parte un altro cross e c'è Belcastro stavolta attento. Arrivano anche gli applausi della tribuna roccellese. Calcio di punzione che sta per battere Rizza, un giocatore molto interessante, batte l'uomo. Ribalanza S della roccella con Pizzo Leone. Ottima giocata di Coris, poi il cross, molto bello. E poi Coris, un'altra finezza, ha applaudito la sua azione nonostante non avesse centrato. Poi c'è questo scatto da parte di Dutera, Garibbi. Una punizione nei pressi del calcio d'angolo. Cross al centro. Il roccella sfiora il terzo gol. Un po' più, grazie.